2019 dicembre fine mese si chiude con il papa che da un 5 alla cinese ci fu tanto scalpore per questo fine anno poi fu 2020 e adesso sento danno gennaio siamo a Wuhan c'è panico in città dove un'epidemia diventa pandemia e punta il dito medio verso noi dell'occidente che intanto passeggiamo con aria indiparente febbraio c'è Sanremo qualcuno cambia testo facendo un brutto gesto in modo disonesto e buco 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 lascia il palco troppo presto e il povera amadeo ripare il buco come giusto a marzo c'è una guerra sul lievito di birra intanto i primi casi di gente sottoterra ma intanto dal balcone sta partendo una canzone e dopo tanto tempo si riunisce una nazione